Gabriele Nicolosi, una vittoria sofferta oggi qui al campo del seminario, una partita giocata forse il primo tempo a bassi livelli, però il secondo tempo poi la vostra squadra è uscita. Sì, abbiamo giocato un buon tempo, però il secondo tempo abbiamo concluso col gol e questo qua ci ha portato alla vittoria. È stata una partita sofferta, abbiamo lottato su ogni pallone e ora abbiamo la testa da prossimo. Domenico Di Stefano, oggi vittoria larga, figlio di un gioco di squadra che si è visto poi in campo. Sì, abbiamo sentito tante voci che dicevano prima della partita che erano molto superiori a noi, però noi non balliamo, dimostriamo in campo. Come hai visto i tuoi compagni in campo? Carichissimi fin dall'inizio, poi si è visto in campo. Daremo 100-100 tutte le partite, la squadra c'è e penso che possiamo arrivare in atto. Con grinta e voglia porteremo questi tre punti a casa e testa alta alla prossima. Quali le prospettive per il campionato? Vincerlo e portarcelo a casa. Un gol abbiamo giocato molto bene, anche il primo tempo un po' scoraggiati, però nel secondo tempo ci siamo ripresi e abbiamo trovato il gol. Nel secondo tempo, secondo me, loro hanno ripreso un buon gioco e quindi noi abbiamo sofferto un po', però poi ci siamo ripresi. Rocambolesca l'azione del gollo, cosa ti ricordo? Più che altro l'errore sul rigore, onestamente, però poi siamo stati bravi sulla ribattuta a segnare. Tu sei entrato e hai fatto il secondo gollo e hai fatto subito il gol. Sì, comunque all'inizio della partita il primo tempo l'abbiamo sofferto un pochettino, però appena sono entrate forze fresche abbiamo dominato nel campo. Domino assoluto.